Tu meriti la felicità, quindi agisci per ottenerla. Questo è un concetto che ad alcune persone sfugge completamente, ossia che la felicità è qualcosa che si ottiene come conseguenza delle proprie azioni. Infatti, diverse persone credono che la felicità sia un regalo, sia qualcosa di improvviso che nasce dentro di sé, non si sa come, perché c'è un'ispirazione. In realtà, la felicità è la conseguenza di uno stile di vita, progettato con precisione e messo in opera con altrettanta precisione. Quindi, siccome tu meriti la felicità, agisci per ottenere la tua felicità. La felicità è l'unità di misura del tuo valore nell'organizzare la tua vita e nel gestire l'ambiente. La felicità dimostra quanto sei capace di progettare la tua esistenza e quanto sei capace di controllare il tuo ambiente in modo che nel tuo ambiente succedano cose giuste, cose etiche, cose che permettono alle persone di prosperare, di vivere bene e di avere delle prospettive per il futuro. Sii disposto a pagare un prezzo per essere felice. Devi impegnarti per superare chi vuole impedire che ci sia felicità. Prendine atto, ci sono persone che ogni giorno si alzano con l'intenzione di togliere la felicità. Sono i costruttori di armi, sono coloro che si allenano per continuare a far funzionare questo sistema e si danno da fare perché questo sistema continui a opprimere le persone. Sono tutti quelli che vogliono stare in questo sistema che rende infelici persone che domandano di poter stare nell'ingranaggio del lavoro 14 ore al giorno e pago tanti debiti sperando di poter avere un rifugio per continuare a lavorare 14 ore al giorno. Io parlo di 14 ore al giorno perché quello è il tempo dedicato a 8 ore di lavoro. Infatti per lavorare 8 ore hai bisogno di alzarti, prepararti, trasportare il tuo corpo fisico fino al posto di lavoro, rimanere nei paraggi del posto di lavoro durante la pausa pranzo, poi devi tornare a casa, poi devi riprenderti dallo stress e dalla stanchezza del lavoro e alla fine puoi essere te stesso. Per fare questo per 8 ore di lavoro ci vogliono 14 ore come minimo e ci sono persone che vogliono proprio fare questo che, lo dicono loro, non corrisponde alla felicità. E allora che cosa devi fare? Che cosa puoi fare per essere felice? Devi impegnarti. Questo significa che devi fare delle scelte e fare delle scelte in questo ambiente significa pagare un prezzo per essere felice. Un prezzo lo paghi comunque anche quando ti impegni ogni giorno per 14 ore per lavorare e per vivere uno stile di vita che ti mantiene infelice. E allora decidi tu, decidi consapevolmente, di essere disposto a pagare un prezzo per essere felice. Esplora nuovi modi per esistere, sia nel tuo privato sia nel concepire un mondo migliore, pulito e sano in ogni senso. Se vuoi essere felice, se sei disposto ad agire per essere felice e se capisci che non puoi essere felice in questo sistema, che produce persone stressate e tante crisi economiche, allora capisci anche che bisogna esplorare nuovi modi per esistere. Questo vale per te nel tuo privato, riguarda le tue scelte, le persone che frequenti, il tuo partner, lo stile di vita che tu imprime alla tua famiglia. Questo riguarda anche il tuo modo di concepire un mondo migliore, dove le persone stanno bene, sono rispettate, possono esprimersi, possono costruire qualcosa di pulito e di sano in ogni senso. Tutto ciò porta alla felicità. Come vedi, siccome oggi la realtà per gli esseri umani su questo pianeta non genera automaticamente la felicità, bisogna darsi da fare e allora, siccome tu meriti la felicità, agisci, agisci, organizzati e sii tenace per ottenere la felicità. Grazie.